Sembra che non sarò io a guidare! Aspettami! Mi dispiace, questo non l'ho visto! Hai detto che avevi visto tutto! Ma facciamo ad arrivare alla porta! E ora... Il giorno! Anche questa volta l'avventura è finita bene per i barbapapà e per i rinoceronti! Eccellente! Hanno risolto il puzzle delle forme! È uno possum! Nel frattempo all'osservatorio... Ecco! Tutti questi fuoristrada in movimento! Stia tranquilla! Non lavorerà nessuno quel giorno, signorina...